Classifica bugiarda ma anche il risultato di oggi lo è, l'Africo ha disputato una grande partita, purtroppo è rimasto con un pugno di moschi in mano. Ne parliamo con il presidente avvocato Domenico Versace. Sì effettivamente è così, purtroppo la classifica e i risultati ci danno contro, noi oggi sicuramente non meritavamo di perdere per come è andata la partita, non mettiamo in discussione la superiorità a livello qualitativo della Melitesa, ma l'Africo ha disputato secondo me una partita discreta, è riuscita a passare in vantaggio, poi per qualche generosità con due calci di punizione di Marino la Melitesa è riuscita a ribaltare il risultato, però purtroppo dobbiamo rimborcarci le maniche e cercare di andare avanti e di uscire il più presto possibile dal basso fondo della classifica. Non sarà facile però noi ci proveremo fino alla fine. Vero è che sull'1-0 l'Africo abbia avuto la palla per mettere il risultato nel freezer? Sì è così, purtroppo non siamo riusciti a fare la doppia marcatura e con una bravura e con un'ingenuità da parte nostra la Melitesa ha guantato il pari, non si può dare due calci di punizione da quella distanza dei giocatori del calibro di Marino, quello significa un rigore e non una punizione, peccato avrebbe fatto un risultato positivo morale, i ragazzi secondo me sono un pochettino giù, basta vedere anche le espulsioni e poi quello che infastidisce molto è secondo me, come fai a cacciare un ragazzo di 16 anni fuori solo perché sul 3-1 ha allontanato la palla, stiamo perdendo quindi non ha tratto nessun beneficio e non aveva nessun motivo di buttare la palla, è stata una reazione così e quindi doppiamente penalizzati per la doppia espulsione sia anche quella di Criaco per doppia munizione. Purtroppo le cose ci stanno andando contro, speriamo di riuscire a sistemare le cose, se qualche problema di organico ce l'abbiamo, però oggi per esempio venivamo fuori e abbiamo due squalificati fuori perché avevano preso due giornate, mercoledì un'altra espulsione per un calcio di rigore inesistente per un fallo di male che ha visto solo l'albitro, oggi purtroppo siamo stati un pochettino penalizzati non solo dal risultato ma anche da altre circostanze. Pazienza, io non voglio fare vittimismo, però io credo che il calcio deve essere il calcio e bisogna che il calcio abbia delle regole che vadano rispettate da parte di tutti, non solo dai giocatori ma anche da parte di chi dirige le partite perché se quello ognuno pensa che può fare tutto quello che vuole allora siamo alla follia, siamo veramente ai limiti della sopportazione. Io non voglio pavimentare niente, però le squadre non possono essere penalizzate in maniera così vistosa. Mister Francesco Criaco, gli sportivi melitesi conoscono bene questo volto perché ha calciato per diversi anni nella nuova melito, oggi si cimenta nelle vesti di allenatore dell'Africo, l'Africo ben messo in campo che ha disputato una grossa partita, lo abbiamo detto nella telecronaca, che sull'1-0 ha avuto la palla per mettere il risultato in cassaforte. Sì, intanto colgo l'occasione per salutare tutti gli sportivi di melito dove io ho giocato e sono stato trattato veramente alla grande, quindi ringrazio ancora tutti gli sportivi melitesi per quegli anni. Per quanto riguarda la partita, avete detto voi, noi avevamo qualche assenza importante, però abbiamo secondo me disputato una buona partita nel primo tempo, dove abbiamo cercato di giocare, abbiamo fatto il gol, abbiamo sfiorato anche il secondo gol, poi secondo me la differenza oggi l'ha fatta Ciccio Marino, che voglio dire con due perle ha inventato il 2-1, quindi poi un'altra cosa molto importante per il borgo grecanico è stato che abbiamo subito il gol del 2-1 al 45esimo, cioè a dire prendiamo gol e finisce il primo tempo, lì dopo tutti gli sforzi che abbiamo fatto un po' la squadra si è abbattuta, diciamo. Però niente, abbiamo poi continuato a giocare e niente, poi ci siamo innervositi, cosa che non deve succedere, abbiamo perso due giocatori, siamo rimasti in nove e così abbiamo preso il terzo gol. Una squadra che perde non può ballare certi rock and roll e la macarena. No, 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 va bene, però alcune cose non vanno bene perché noi vogliamo fare calcio, la sconfitta ci può stare, ancora mancano 24 partite, non possiamo prendere due espulsioni a partita, assolutamente, questo non va bene. Va bene la cattiveria agonistica, va bene che il mio giocatore non ci sta a perdere, però lo dobbiamo dimostrare con altre situazioni. Dobbiamo essere cattivi in campo, sulla palla, sotto porta, sulle marcature, ma non su altre situazioni. C'è tutto il tempo per rimediare? Sì, sicuramente c'è il tempo per rimediare perché siamo ancora agli inizi, siamo partiti, diciamo, malissimo, anche se come oggi le altre partite le abbiamo giocate bene, anche a gioia, voglio dire, abbiamo fatto una buona prova, in casa col monasterace, quindi siamo una squadra giovane dove alcuni ragazzi devono crescere, però se ci vogliamo salvare dobbiamo intervenire sul mercato, assolutissimamente.